I viadotti insicuri adesso non rappresentano più un pericolo e questo senza che si sia reso necessario alcun intervento. Arriva la svolta per l'emergenza traffico. La procura di Avellino, dopo le numerose sollecitazioni di autostrade per l'Italia e del Ministero dei Trasporti, ha dato il via libera al dissequestro dei viadotti lungo la A14. La svolta nasce fuori da una lunga interlocuzione che si è avuto con il Ministero delle Infrastrutture e con la stessa procura che ha portato poi all'approvazione da parte della procura stessa del provvedimento con la quale abbiamo richiesto la possibilità di poter cantierizzare in una maniera differente rispetto a quella che si utilizzerà in fase di esecuzione dei lavori. La procura di Avellino ad inizio dicembre 2019 aveva proceduto al sequestro ritenendo non idonee le barriere di bordoponte ma da questa settimana non le ritiene più pericolose. Cos'è cambiato nel frattempo? assolutamente nulla. Nessun lavoro specifico è stato effettuato in questi mesi. A seguito della tragedia del viadotto Acqualonga nella provincia di Avellino in cui nel 2013 un pullman sfondò il New Jersey e precipitò per 30 metri costando la vita a 40 persone, Aspi aveva provveduto alla sostituzione dei tirafondi che risalivano agli anni 80 lungo tutta la rete autostradale. E questo già prima del sequestro. Poi l'intervento della procura a cui non era bastato l'ammodernamento ma ad oggi i tirafondi dei viadotti non sono stati nuovamente sostituiti. E le ambiguità non finiscono qui. Barriere e tirafondi sono gli stessi identici su tutti circa 600 viadotti dell'A14. La procura però ha scelto di sequestrarne solamente 13 di cui 8 in Abruzzo e i motivi per cui alcuni viadotti siano stati sequestrati e altri no rimangono tuttora ignoti. In ogni caso procedono i lavori notturni ad opera della società dei Benetton. Entro il 31 luglio, promette Aspi, saranno tutti terminati e sarà ripristinata la circolazione a due corsie. Degli 8 viadotti che interessano la regione Abruzzo, su due di questi, in particolare su quello dell'SS del Vomano e il viadotto Vallelungo, abbiamo già completato il posizionamento dei New Jersey e pertanto sono già fruibili a due corsie per senso di marcia, sia in direzione da Bari verso Ancona che da Ancona verso Bari. Sugli altri sei viadotti sono in corso le attività. Questa notte abbiamo iniziato con i lavori in corrispondenza del viadotto Cerrano e del viadotto Santa Maria che ricadono nella tratta tra Pescara Nord e Pineto e proseguiremo con le attività anche nelle prossime notti avvantaggiandoci di giorno facendo delle attività propedeutiche. Questo proprio per arrivare ad un completamento di tutto entro la mattina del 31 luglio. La chiusura del viadotto Cerrano nel periodo natalizio era stata una delle cause maggiori dell'emergenza traffico. Qui influisce anche una problematica che riguarda la franosità del terreno. Aspi si sta occupando anche di questo e la questione dovrebbe risolversi entro autunno. C'è un intervento geotecnico alla base della pila 1 del viadotto Cerrano sul quale si sta realizzando un sistema di regimazione delle acque diverso, sistema di regimazione delle acque che sarà quindi pronto per il prossimo autunno con l'arrivo delle piogge.